Ci sono 20 nodi di vento, vabbè, noi siamo qua per voi e voi siete lì per noi. I nostri veterani affrontano anche le condizioni di mare più impervie per offrirci nuovi consigli e farci vivere nuove e divertenti avventure. Ti presento Coraziel. Altronde, se non è veterano, è veterano. Fishing Veteran, la nuova stagione. Dal primo febbraio, ogni giovedì alle 21.30 in esclusiva su Pesca, canale 236. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS